Prepariamo il pranzo. A Milano sono nuova, ma ho già deciso quello è il mio quartiere preferito, Paolo Sarpi. Ho trovato degli ingredienti pazzeschi che non vedevo l'ora di provare. È andata così. Oglietto piccante, aromatizzato, una bomba. Gochujang, pasta piccante fermentata coreana. Ci facciamo una salsina. Aceto, aglio tritato, puntina di miele, gnocchetti di riso. Ci facciamo bollire. Dentro il cipollotto. La salsina. Semi di sesamo. Sembra bello. 3 l'1. Buono. Bene. Super spicy.